Prova ad organizzare la rimonta bandalasco ma occhio allo scippo di Frassino che guarda il movimento di Elia Servito Elia, di prima pallonetto, gol splendido di Elia che poi esulta alla battistuta con la mitraglia Mimica facciale che fa intendere grande soddisfazione e anche un po' di sorpresa da parte dell'attaccante Maglia numero 9 che si è inventato un gol pazzesco perdendo anche l'equilibrio cadendo all'indietro per riuscire però a colpire pieno questo pallone Esce un arcobaleno luccicante che scavalca Kaudec